Salve! Come va? Ehi, sentite, avete commesso un errore. Sono Owen Hendricks, affari legali della CIA. Owen Hendricks. E sei venuto senza preavviso in una base segreta. Scusa, avrei dovuto chiamare. Come va il nuovo lavoro? Ti sei fatto nuovi luici. Ora stringo, ora non stringo, ora stringo, ora non stringo. Ora stringo, ora non stringo. Ti dispiace smetterla? Possiedo documenti classificati della CIA. Avresti dei documenti? Tantissimi documenti. Non voglio essere quella che dice di preoccuparsi per te. Ma mi preoccupo per te. Pensavo ci saremmo visti domattina. Vai piano. Non emissions, ma mi preoccupo per te. Non c'è il corpo. Non c'è l'ho. Non spettacolo. Non è solo un disco, ma mi concentre la poteca. Non c'è il suo. Grazie a tutti